Benvenuti a questa serata molto particolare organizzata da Cosmovix e da Saturnet per festeggiare Halloween, solo che non è proprio la temperatura giusta Luca. Sono 31 gradi, proprio come la giornata di oggi, il 31 luglio, il primo Halloween estivo della capitale. Ma perché Gianluca l'abbiamo fatto qui sul Lungotevere di Roma? Perché già da giugno qui sul Lungotevere abbiamo installato questa splendida casa del terrore, Bloody Lady, la prima casa a tema vampiri che sia stata mai realizzata, soprattutto in un evento come questo, un evento dedicato all'estate, un evento storico per Roma. È una casa molto molto particolare che segue la storia della prima serial killer certificata, Elisabeth Bathory, una contessa un po' strana, circa del 1600, che abitava nella Transilvania, che aveva un hobby particolare, che era quello, piccolo se niente di che, aveva un piccolo hobby, quello di fare il bagno nel sangue delle sue serve. È una cosa normalissima, fa bene molto alla pelle, fa bene i capelli. L'unica cosa è che la simpatica contessa Transilvana, nipote di Dracul, quindi anche lei era una Dracul, ne ha uccise quasi 600 di serve per farci il sangue. 600 sono veramente tante. E qui a Bloody Lady noi ripercorriamo la storia della contessa sanguinaria e del mito dei vampiri che ha generato purtroppo questa storia vera. E ricordiamo che questa Horror House è molto particolare perché all'interno ha degli attori bravissimi, delle scenografie e degli effetti speciali. Se siete curiosi di entrare nella villa di Elisabeth Bathory, noi vi invitiamo a tevere estate all'interno della Horror House Bloody Lady, la vera storia di Elisabeth Bathory. E vi ricordiamo, venite a trovarci su Facebook, su Cosmuvix con la X e Satirnet con la Y, particolarissima questa cosa. E vi aspettiamo per spaventarvi e farvi vivere un'estate... ...traumibile! Ciao, buonanotte, sogni d'oro. Incubi!